Siamo entrati nel dot da 50 Qua Vamo su Aiii, good luck, King Etero Riusciamo a far fuori a lui almeno Siamo anche in una tristack da 10 se dovessero chiamare ve lo faccio vedere Uuuu, mamma win Let's go, si sta da 40 big blind Allin, 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 allin Allin230 Eccolo qua Ti prego non facciamaci scammare Se chiama pure Mr.Folletto sarei stato più contento Holda Oh, mio dio Andai Mi stava schifando robro Va bene Va bene Mi ha messo in curiosità Mi vorrebbe andare a lui Sì Già Ehm Fani, grazie Eccolo Eccolo Sei secondo Guarda il tavolo Eccolo Matti Oh Qualcosa è questo mini race? Storto più di lui Eccolo questo ti merita assosso Deve avere Prossimo alto per i spiolti Buona Non lo troviamo con la sua nuova Inizia a bestemmiare da mo' fino a dopodomani Se non la finisco più Ovviamente su questo board Sarebbe molto stupido fare così Quindi facciamo Core Allora Non è un bel turn Però non è neanche orrendo Perché tanto noi blocchiamo Dici Jack E soprattutto se fa quella cosa Dici Jack Sei da carcerare Ora se betta ancora Noi scioviamo Perché potremmo sciovare in bluff Che si è aperto 4 Quindi di colore Scale Bla 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 Tra la la Quindi Tre Due Uno It's ok It's ok Now It's ok Su Instagram Così e poi ci organizziamo Vinto Lo so Ci organizziamo Per incontrarci lì Grande Oh Oddeo Oddio 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 Vamos On Yes Yes Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Tutti i tornei, adesso ci sono rimasti questi ultimi due. Adesso è show anche perché c'è lui in set out. Partiamo da sopra, partiamo da sopra. Sì, 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 sì. Perché io sperava che io che amassissero dietro. Alla, vai, 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 vai. Buongior как ho. Calipa. Per himself. Sì Di fiori, è uscito di fiori, è uscito di fiori, è uscito di fiori Va bene, vai Ci siamo, ci siamo, so di lui Dai Vediamo Ecco qua Yes 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 Oh, 10 check è stato irritatissimissimo Però ci fa fiori Diciamo, da una parte è meglio perché abbiamo preso la ladder Dall'altra però preferivo che lui uscisse Ehm... Ehm... Oh, no. oh mamma mamma mia che è successo? inaspettatissimamente glorioso oh mamma mia che è successo? ciao belli ci vediamo domani